Ed ecco in sala a provare i due battenti che Aramini mi ha mandato, sono i due battenti Big Kick della BigFert. Quello che sto per provare adesso e il primo che proverò insomma è il Big Kick in feltro. Vediamo che cosa esce fuori. Poi sulle nuove pelli della Remo in ambassador montata sulla mia batteria e così sarà straordinario. Grazie a tutti. Ed ora proverò il secondo battente Big Kick della BigFert. Questo è tutto in legno. Beh devo dire, sembra che sia molto potente. Su pelli come l'ambassador quindi pelli di una certa risonanza ha il suo perché. Devo dire che il suo riscontro è più che ottimo. Mi piacciono molto vi siamo attenti. Proviamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.